Sono due i decessi registrati nella giornata di oggi nelle marche tra i pazienti risultati positivi al coronavirus. Il primo è un anziano di 85 anni di Ancona, anch'esso con gravi patologie pregresse, indegenza all'INRCA, istituto di ricovero e cura per anziani, deceduto durante la notte scorsa. Il secondo è un 76enne di Fano Gandolfi Mario, ricoverato venerdì scorso a Pesaro, inutiche per una sofferenza cardiaca e con febbre alta, è tenuto in osalamento per essere risultato positivo al test del coronavirus. Nella notte scorsa è stato trasferito in terapia intensiva al Santa Croce di Fano, dove però in giornata è deceduto. Anche il numero dei contagi si è aggiornato, altri 13 tamponi positivi sono stati segnalati oggi dal Gores di Ancona, esaminati dalla virologia del Torrette, altri 7 in provincia di Pesaro e altri 4 ad Ancona, pertanto i positivi salgono complessivamente a 97 in totale, di cui 79 nel Pesarese, 13 nell'Anconetano, 3 nel Fermano e 2 a Macerata. Inoltre le persone in isolamento domiciliare sono 500, mentre i ricoverati in terapia intensiva in totale sono 14, di cui 8 negli ospedali di Marche Nord e 2 a Torrette. Ma nella giornata di oggi inoltre si è tenuta in regione anche una nuova cabina di regia. Stiamo continuando a lavorare con la crescita che c'è stata negli ultimi giorni importante del numero di casi positivi e soprattutto sul piano sanitario in questo momento per allestire spazi e strumenti necessari a una situazione che cambia. Sotto profilo economico c'è stato il lavoro del primo tavolo perché bisogna iniziare a pensare anche quello, prima ovviamente la salute e poi anche gli aspetti legati all'economia. Le misure con l'ultimo decreto sono state differenziate fra un'area e un'altra, io avrei preferito mantenere su tutta la regione le stesse misure, ma il governo ha fatto la scelta di avvocare a sé questa strategia riconoscendo ovviamente nella provincia di Piesa Urbino l'area più colpita, però noi continuiamo parimenti a seguire la situazione di tutta la regione. Noi con le risorse regionali vogliamo fare in modo che, in qualche maniera, in modo complementare rispetto a quelle statali possiamo utilizzarle per dare una risposta a quella parte della nostra economia che è colpita.